Questa è il Circo Orfei, la Scuola d'Italia a Maniago, io sono questa, questo è il fisiamonecista che non vuole più tornare. Questa è mia bisnonna, questa qui, questa è mia nonna e poi ci sono le nuore, 52 e 5 anni, 5 anni? Sì, questa è la foto del 1917 all'incirca, mio papà, mio dottio Gino e due sorelle che sono morte, una di Spagnola e l'altra di Lutra Meningite, questo mio dottio Marco che era del 16. Un parto trigemino, di una mucca che ha avuto tre vitellini. Ah, beh, nelle vostre stelle? Sì, nel 1935, era scritta dietro. Io quella volta, dunque, era del 20, del 52, aveva 32 anni se non erano.